buona mattina amici di mercato totale eccoci collegati con la cabur e con me c'è paolo vela direttore vendite della cabur stessa ovviamente buongiorno paolo buongiorno buongiorno giancarlo buongiorno a tutti allora praticamente agosto è il mese delle vacanze e io vi costringo a esserci per raccontarmi le cose che il mercato totale vuole raccontare al proprio pubblico e quindi ti costringo a questi cinque minuti di straordinario dove ci illustrerai le grandi verità che la cabur proporrà al mercato in quel che resta del 2022 e cioè da settembre fino a dicembre sei pronto sono pronto dai dai per questi cinque minuti da guardare sotto l'ombrellone o in vetta una montagna va bene allora il cronometro partito allora da che cosa cominciamo guarda puoi cominciare un po da dove vuoi io ti racconto quello che ti dico come cappello forse dovrebbe essere la parte finale ma come cappello che stiamo lavorando un po su tanti fronti veramente tanti fronti per cercare di rendere per quanto ci riguarda la crescita di quest'anno il più strutturale possibile e sappiamo che quest'anno c'è stato un rimbalzo fortissimo per tutto il nostro mercato anche se la condizioni al contorno geopolitiche sociali economiche non sono certo delle più favorevoli al nostro mercato sta andando bene noi stiamo andando particolarmente bene stiamo lavorando per rendere strutturale questa crescita senti e ci siamo scambiati degli appunti nei giorni scorsi e mi hai parlato di organizzazione aziendale per me di tutto sì in termini di organizzazione diciamo abbiamo inserito una persona e ne inseriremo un'altra che arriverà proprio nel periodo autunale sul porto del nostro servizio customer care e oggi soprattutto con l'uscita nell'ultimo anno delle stazioni di ricarica il supporto che dobbiamo dare ai nostri clienti è molto importante e continuativo per cui abbiamo ristrutturato il servizio già l'avevamo ampliato lo amplieremo ulteriormente anche con nuove con nuove competenze questo riteniamo possa essere un ulteriore elemento e diciamo che possa far preferire il nostro prodotto e il nostro servizio in modo allargato ai ai clienti senti paolo il mercato vi chiede molto avete necessità di aumentare la produzione bisogna di parlare il terzo turno addirittura e se diciamo ormai sono sono tanti mesi qua è stato fatto uno sforzo incredibile grazie anche alla collaborazione disponibilità di tutta la nostra forza lavoro sia in fabbrica sia le spedizioni diciamo abbiamo investito moltissimo gli imprenditori hanno investito moltissimo in materia prima capacità produttiva ce l'abbiamo siamo un'azienda italiana al nostro mercato di riferimento è l'italia e adesso noi stiamo lavorando su tre turni che non vuol dire 24 ore su 24 ma sicuramente con un orario molto molto allungato e questo ci consente anche in questo senso di dare un servizio migliore rispondere alle esigenze dei clienti il fatto poi di poter pilotare diciamo direttamente la produzione ci consente perdonatemi un po il semplicismi però di orientare la produzione su una tipologia di prodotto piuttosto che su un'altra secondo delle necessità ovviamente compatibilmente con quello che una realtà produttiva però riusciamo a fare anche questo non credo che sia una tua competenza ma io di recente ho pubblicato anche le notizie del vostro nuovo sito web sì sì ci lavoriamo da un po ed è anche questo qualcosa una vetrina verso l'esterno la multicanalità per noi produttori passa anche attraverso il sito e il nostro sito ha bisogno di un deciso rinnovamento sia in termini di grafica sia in termini di interattività e di possibilità e facilità di consultazione per cui anche questo nell'autunno vedrà vedrà la luce beati i siti che si possono ringiovanire migliorare sempre così è per noi o dei figli e per cui mi rendo conto che parliamo invece della vostra uscita dalla fabbrica dall'azienda cioè dove vi mostrerete a che cosa parteciperete ma noi parteciperemo a in particolare a due eventi uno una novità assoluta per tutti che si chiama roma innovation hub si svolgerà i primi di settembre di fatto una convention nazionale di 8 9 non ricordo esattamente ma ordini professionali nell'ambito della progettazione e i temi principali di questo evento saranno ovviamente la transizione energetica risparmio energetico il new deal la mobilità elettrica noi saremo partner del di di questo evento faremo anche degli interventi istituzionali ed è anche questo un modo per presentarci all'interno di mondi nuovi e target nuovi per quanto ci riguarda e a seguire poi all'inizio di novembre faremo la nostra seconda partecipazione a chi energy con una fiera di riferimento anche questa per il settore delle energie rinnovabili della mobilità elettrica e noi con la nostra offerta di fotovoltaico da un lato e di mobilità elettrica dall'altro approfitteremo anche per magari annunciare quello che saranno le novità che arriveranno nei prossimi mesi in termini di prodotto ho capito va bene sei stato come al solito perfetto nei tempi questa è la tua caratteristica io sono molto contento perché mi hai evitato di ghigliottinarti tagliando i tempi e allora anziché salutare dico che perché mi è sfuggito non sono riuscito a dirtelo che dall'autunno cominceremo con le consegne del completamento di gamma della linea morsetti a molla pusheen per cui con le sezioni uno e mezzo e sei un caro saluto a tutti grazie a paolo vela direttore vendita della cabo questa volta detto in maniera perfetta eh ho concluso almeno al meglio grazie paolo e buon agosto anche a te e a tutta la cabo grazie grazie di zancarlo grazie a tutti